Margherita Bianchini al termine di un match combattuto contro le forti tedesche, peccato forse per quel primo set. Ma diciamo che quando giochi con queste squadre forti è questione di episodi e loro hanno una marcia in più proprio perché nei momenti cruciali sembra che abbiano fortuna, in realtà non è così, riescono sempre a trovare il punto in un modo o nell'altro, però stiamo facendo passi avanti, di sicuro ci stiamo avvicinando. Era proprio questo l'obiettivo, insomma, confrontarsi con le più forti e continuare a crescere? Beh sì, sicuramente loro hanno un vissuto e si vede, hanno molta esperienza, c'è solo da imparare, però siamo molto vicine e questo ci dà conforto per continuare questo mondiale e speriamo di continuare al meglio. Qualche ora per rifiatare, domani si riparte con la fase eliminazione diretta, quindi inizia un'altra fase del mondiale. Ma in realtà non è detto, perché se siamo fra le migliori terze può darsi che andiamo direttamente alla fase successiva, ma non lo siamo, no? Ok, non importa e allora partiremo. Probabilmente no, avremo un'altra partita e la giocheremo esattamente come abbiamo fatto ora, daremo tutto e cercheremo di andare avanti. Grazie.